allora andrea bertinotti nord affari adesso siamo su un cleaver vario kids allora a me ti devo dire la verità perché poi è difficile recitare a me sto piacere un sacco però abbiamo iniziato a dare questo taglio nei video dobbiamo continuare quindi non mi piace non ne voglio sapere niente anzi ti dirò di più lo disprezzo pure non lo comprerò mai a te il compito di spiegarmi di convincermi che invece sto facendo una sciocchezza perché un mezzo che vale la pena acquistare ed utilizzare questo come tutta la gamma clever è un mezzo rivolto a chi cerca la solidità senza fronzoli sportivi gente che ci lavora solidità è una macchina particolare perché spesso il h2 su 6 metri col doppio letto matrimoniale sovrapposto è una macchina che per 4 e va bene anche se è al limite ma quando utilizzata per due sacrifici un sacco di spazio di vivibilità sul letto e di pensi questo modello invece puoi ritogliere oltre al letto superiore anche i pensili superiori quindi quando vedi in due dato vado a vederlo così il lettore di nusca ecco sia a destra che sinistra e c'è il pensi di essere una parte smontato per far vedere appunto che i ganci che si possono togliere questo ti permette quando sei in due di avere un vero camper da due quando siete in quattro avrete i vostri letti matrimoniali pronti e potete ricavare spazio aggiuntivo di pensili uno secondo il prezzo 40.700 tutto compreso 160 cavalli sia parte meccanica full che parte camper full anche porta zanzariera porta servo assistita completo prezzo imbattibile come tutta la gamma clever attenzione questo è un modello all inclusive ma all inclusive esiste anche il runner e il celebration i letti gemelli e il matrimoniale trasversale classico grazie